Si parte con questi giochi del Mediterraneo sulla spiaggia, una sfida anche da parte vostra? Sì, è una sfida, soprattutto perché siamo partiti certamente in ritardo, però è una sfida che noi siamo convinti di vincere anche perché la struttura operativa al 90% è costituita da quelle stesse persone, figure professionali, che già ci hanno fatto fare bella figura nel 2009 per i giochi del Mediterraneo. È una sfida anche perché è la prima volta, è la prima edizione di questi giochi, la difficoltà sta nel fatto che non abbiamo mai avuto la possibilità di avere parametri di riferimento, per cui essendo la prima edizione non sai quanti atleti arrivano, non sai quindi tutti i servizi annessi che si debbano collegare alla loro accommodation e quindi tutte queste sono grosse difficoltà, anche perché il budget che ci è stato assegnato è molto limitato, però con l'aiuto di istituzioni pubbliche, CONI, Regione, Governo, il Comune, gli sponsor che ci stanno dando una mano, le federazioni sportive, è stato un grosso lavoro di squadra per far sì che l'Italia e Pescara facciano ancora una volta bella figura. Prima edizione dei giochi del Mediterraneo sulla spiaggia, una grande occasione per l'Abruzzo e Pescara. Si tratta di una grandissima occasione per Pescara che scrive una pagina di storia eccezionale per il lancio dei giochi del Mediterraneo e spiaggia e speriamo che tutto vada come nelle aspettative che questi giochi possano essere sperimentati anche in futuro. Una edizione importante, la prima avete avuto un grande appoggio da parte della Regione Abruzzo e del Comune di Pescara. Sì, c'è stata una grande partecipazione da parte delle autorità locali, della Regione, del Comune e anche del CONI, tutti uniti per la realizzazione di questi giochi del Mediterraneo sulla spiaggia.